Ciao a tutti! Oggi prepareremo il gelato al limone. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 2 minuti. Gli ingredienti sono limone, scorza di limone, zucchero e latte congelato. Andiamo in via la ricetta. Mettiamo all'interno del boccale lo zucchero e andiamo a realizzarlo a 10 secondi a velocità 10. Uniamo sul fondo con la statola. Andiamo a mettere adesso la scorzetta del limone. Andiamo a fritarle per altri 10 secondi a velocità 10. Andiamo nuovamente a riunire sul fondo. Mettiamo il succo. Adesso mescoliamo per 30 secondi a velocità 4. A velocità 7. Andiamo ad amalgamare per 30 secondi. A velocità 7. Pasolando. il nostro gelato è quasi pronto adesso lo andiamo a mettere in una vaschetta e a mettere per 30 minuti in freezer gelata al limone grazie e alla prossima ricetta